ben trovati ad una nuova puntata della rubrica face to face i nostri ospiti di oggi sono Dario Castiglia presidente Remax Italia buongiorno e buongiorno a te Jennifer e Riccardo Bernardi chief development officer di 24 Max buongiorno Riccardo ciao Jennifer ben ritrovata li abbiamo raggiunti oggi perché hanno dato proprio oggi l'annuncio di un'operazione che è stata effettuata lo scorso venticinque luglio e che è l'operazione dell'anno del mercato della mediazione creditizia e eh l'operazione riguarda proprio l'acquisizione delle azioni di ventiquattro finance da parte di Remax e eh che è diventata a tutti gli effetti la proprietaria unica di ventiquattro Max quindi innanzitutto congratulazioni per l'operazione. Grazie. E eh poi vorrei partire con delle domande per Dario Castiglia vorrei sapere da lui quelli che sono i motivi che vi hanno spinto a a ad investire in ventiquattro Max e a diventarne appunto gli unici proprietari. Assolutamente. Jennifer grazie della dell' opportunità grazie di eh di sentirti. Una precisazione siamo eh sì diventati proprietari del cento per cento delle azioni di classe A ma di fatto non siamo gli unici azionisti perché abbiamo anche tantissimi azionisti di classe B che tra l'altro alcuni sono nostri affiliati Remax alcuni sono eh i credit specialist di ventiquattro Max e quindi abbiamo veramente altri azionisti. Abbiamo anche avuto domande di intervistarne alcuni sì in effetti è vero. Esatto esatto. Il diciamo che il la società di mediazione creditizia per noi è strategica eh come Remax Italia perché ovviamente facendo intermediazione immobiliare avere una società di mediazione creditizia è fondamentale eh siccome come ben sappiamo eh il settanta per cento del del transato eh richiede un finanziamento tramite un mutuo fondiario. Eh i abbiamo colto l'occasione eh di diciamo di eh di acquisire le quote del nostro socio con cui siamo partiti eh un po' per dare uno slancio diverso alla nostra società un po' per eh creare nuove opportunità e e un insomma siamo un po' più padroni della direzione in cui vogliamo mandare questa azienda. Io approfitterei della sua presenza per parlare del rapporto tra il mondo immobiliare e il mondo della mediazione creditizia. Ora vorrei capire un po' come si è evoluto rispetto a quando avete deciso di investire proprio la prima volta in ventiquattro Max e mh come prevedi che sarà poi nel futuro il rapporto tra questi due mercati? Beh diciamo che i i due mercati ehm camminano diciamo insieme mano con la mano eh da da sempre eh è ovvio che è cambiato il mercato in termini di tassi di interesse. Siamo nati in un periodo in cui i tassi eh continuavano a scendere addirittura siamo arrivati al punto di avere il costo quasi a zero diciamo con addirittura tassi di interesse negativi eh ora eh negli ultimi mesi c'è stata un'evoluzione in quel senso quindi a maggior ragione la consulenza di un credit specialist eh nei confronti del cliente che compra casa è ancora più determinante e quindi quello che noi abbiamo intrapreso cinque anni fa affiancando e ventiquattro max al al consulente nostro immobiliare Remax si rivela una una formulazione decisamente vincente. Benissimo la ringrazio e poi passerei a Riccardo e eh vorrei chiederti quello che secondo te sarà l'impatto di questa acquisizione sulla rete e quanto inciderà sulla crescita della società e quali sviluppi prevedi che poi avrà tutto questo? Ma l'impatto è è già stato positivo perché diverse diverse situazioni nel momento in cui sono venuti a sapere che eh Dario Castiglia che comunque è una persona che ha una certa notorietà del mercato immobiliare ed ha acquistato l'intera società cioè l'aspettativa è di un'accelerata per tutta una serie di processi di integrazione tra gli agenti Remax e eh gli agenti ventiquattro max tant'è che abbiamo in cantiere eh dei progetti nuovi che 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 abbiamo già avviato ma concretizzeremo da nella seconda parte dell'anno di avere anche eh un'app eh che in modo automatico crea una relazione tra gli agenti immobiliari Remax e gli agenti ventiquattro max e questa cosa ovviamente eh darà una svolta ulteriore a quello che è eh il dialogo tra queste tra queste due parti perché sostanzialmente eh l'obiettivo del mediatore creditizio è quello di essere presente in tutte le situazioni dove esiste un cliente che ha la necessità di comprare a casa tramite un mutuo quindi la tecnologia questo sviluppo importante che che abbiamo già fatto e che che lancieremo eh da settembre darà manforte a ai mediatori creditizi per essere operativi su tutte le operazioni degli agenti Remax quindi sicuramente eh il fatto di avere preso in mano completamente la società ci permette anche di andare a eh dare una garanzia agli agenti immobiliari su quello che accade ai loro contatti su quello che accade a alle loro operazioni perché di fatto hanno un unico referente che è il proprietario del franchising per il quale hanno l'agenzia affiliata quindi questa è un po' eh le le attività che stiamo che stiamo avviando. Quindi mi aspetto una una spinta molto forte diciamo alla rete e hm ti chiederei voi avete un modello di business che è particolare è nato con una forte sinergia con le agenzie immobiliari e volevo chiederti come sta andando in questo particolare momento di mercato che è caratterizzato un po' dai tassi a rialzo e dalle banche che cominciano un po' a stringere i cordoni del credito. Sì allora quello che allora quello che riguarda il nostro modello di business è che ancora oggi sul mercato è unico perché sostanzialmente come ben sai il nostro mediatore creditizio ha un un corner finanziario all'interno dell'agenzia immobiliare eh e ha il vantaggio di essere in un'agenzia dove gravitano anche 15 20 30 a volte anche 50 a volte anche più di 100 agenti e inevitabilmente eh vero è che il mercato immobiliare si sta contarendo però essendo in un'agenzia così importante per quanto si possa contare il suo business riesce ad addestrarlo eh allo stesso modo tant'è che eh i nostri dati del caricato di pratiche raccolte nei primi sei mesi eh sono in linea eh rispetto all'anno scorso sostanzialmente eh ne abbiamo raccolte sei di meno a gennaio a giugno in un mercato che eh i dati di CRIF perché abbiamo fatto degli incontri recentemente con CRIF ci parlano eh di 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 richieste del mutuo che sono tracollate di oltre il 25 per cento quindi questi numeri anche a dimostrazione che il nostro mediatore creditizio vivendo in agenzia si trova in una posizione privilegiata e abbiamo anche dei corner in agenzie non Remax perché quello che 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 è accaduto è che in altre agenzie strutturate siamo riusciti a ad esportare il modello quindi questo potrebbe essere un ulteriore sviluppo che stiamo su cui stiamo riflettendo molto attentamente eh per il futuro e ci riflettiamo ancora molto più attentamente nel momento in cui Remax Italia è diventata unica unica al controllo totale dell'unica socia dell'azienda di ventiquattro max. Buonissimo allora intanto aspetto degli aggiornamenti su questo sicuramente tra la fine dell'anno eh vi ringrazio moltissimo per averci averci concesso questa intervista proprio nell'imminenza della della notizia e grazie quindi a Riccardo Bernardi e grazie a Dario Castiglia per essere stati con noi grazie a te. Grazie a te Jennifer grazie. E arrivederci alla prossima puntata della rubrica Face to Face. Senza altro. Perfetto. Grazie ancora. Buongiorno a tutti. Perfetto. Perfetto.